Salma Lagerlouf è stata una delle scrittrici che hanno cambiato la storia della donna una delle prime donne a essere famose in tutto il mondo vinse con una fiaba il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson che qui è edito in italiano da Iperborea una onorificenza un premio che nessuna donna prima aveva mai vinto il premio Nobel e questo libro nasce da un desiderio quello dell'associazione dei maestri elementari della Svezia di avere un libro di scuola che sia divertente il libro di scuola per solito non è divertente è pieno di cose da imparare di vicende da dover mandare a memoria e soprattutto all'inizio del novecento quando i bambini in Svezia dovevano sapere a memoria il libro degli inni ossia le preghiere che dovevano essere ripetute a scuola tutte le mattine chi non le sapeva prendeva le bacchettate sulle dita. Selma Lagerlöf per mestiere prima di poter vivere della sua scrittura era maestra elementare e quindi ben sapeva cosa fosse una classe cosa fossero i bambini davanti a lei come quanto avrebbe potuto cambiare il loro destino per questo ci mise molto a capire come avrebbe potuto realizzare un libro che fosse allo stesso tempo utile e divertente. L'idea che ebbe fu quella di fare una sorta di manuale per la storia e la geografia della Svezia che viene raccontato attraverso una favola. La favola è quella di Nils Olgersson. Nils è un bambino che viene chiamato cattivo si comporta male manca di rispetto ai genitori non è assolutamente buono nei confronti degli animali della fattoria in cui vive e la prima scena lo vede con i genitori che sono disperati per il suo cattivo comportamento che continuamente sono a criticarlo e gli chiedono di andare in chiesa insieme a loro la domenica mattina. Ma Nils ha ben altre idee, vuole utilizzare il fucile del padre per andare a dar fastidio a degli animali. Ecco che mentre finge di leggere le preghiere che la madre gli ha lasciato come compito a casa, viene tentato dalla sua diversa idea di utilizzare il tempo e esce fuori nel cortile della fattoria. Qui incontra una creatura molto piccola. Nel mondo popolare del nord dell'Europa esistono creature di ogni tipo che sono nel mondo sotterraneo, che comunicano di rado con gli esseri umani ma rimangono sempre vicino a loro. Quindi egli incontra uno gnomo. L'ognomo gli chiede acqua, aiuto, ma il bambino è estremamente crudele nei suoi riguardi lo deride, non gli dà niente di quello che l'altro gli chiede e perciò l'ognomo gli lancia una maledizione. Il bambino, che è già quasi un ragazzo ed è alto per la sua età e dà una notevole forza fisica, sarà trasformato in un gnomo anche lui. Una creatura piccolissima che per prima cosa dovrà parsela con il gatto di casa, quel gatto a cui lui aveva sempre tirato la coda e che ora improvvisamente diventa molto più grande e molto più forte di lui. La vergogna prende Nils alla gola, decide che non vuole che i suoi genitori lo vedano in questa sua veste minima, da nano, da gnomo e decide di fuggire via con le oche migratrici che in quel momento all'autunno stanno migrando verso nuovi luoghi e nuovi territori. Ecco quindi che giunge il momento in cui dall'addio ha la vita che aveva fatto fino a quel momento. Sale su un'oca domestica, Martin, un'oca bianca, grassa, che fa parte della fattoria e quest'oca però ha sentito il richiamo della natura e ha deciso di seguire le altre oche selvatiche che sono più forti, più robuste di lei. Da questo primo momento parte una serie di avventure, una più fantastica dell'altra, in cui il piccolo Nils deve diventare grande, deve recuperare se stesso e lo può fare soltanto dimostrando di aver compreso che non può essere più importante di nient'altro che è al pari degli animali e al pari degli altri esseri umani. Egli, diventando un gnomo, ha imparato a parlare con gli animali. Quindi le oche gli comunicano cosa sia la realtà, come gli animali vedono gli uomini, che sono per gli animali spesso un pericolo, perché creano grandi fabbriche che producono una serie di materie che inquinano l'ambiente. E gli uomini sono cacciatori, continuamente vanno con i loro fucili dietro agli animali selvatici e vogliono ucciderli. Quando torna ad essere bambino, Nils, ormai un ragazzo, torna alla fattoria dei suoi e non può più comunicare con gli animali con cui ha vissuto per un intero anno. E in questo anno intero, girando per i paesi della Svezia, li ha conosciuti tutti, uno dopo l'altro. E l'autrice Sama Lagerlouf ha fatto una piccola magia di trasformare un manuale di scuola pieno di nomi, date, storie, elementi da ricordare, poesie da mandare a memoria, inne e preghiere da ricordare per filo e per segno, in un'avventura continua, in cui c'è una mappa da seguire, una mappa di luoghi reali, che però, nella visione di Sama Lagerlouf, diventano altrettante occasioni per il protagonista di superare la sua iniziale malvagità e di andare verso una comprensione migliore di che cosa voglia dire essere nel mondo. Grazie. 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 Grazie.